ciao amico di facebook buon sabato anzi buon sabato da montespluga conosci montespluga impossibile è un posto stupendo meraviglioso devi venirci siamo a 1908 metri sul livello del mare anche se sull'edificio dell'antica dogana realizzata dagli austriaci dopo il 1815 è scritto 1904 comune 1908-1904 siamo sempre ad alta quota dove? in valle espluga nel comune di madesimo a tre chilometri dal passo dello spruga che in questo periodo è aperto mentre invece durante l'inverno rimane chiuso un tempo tempo forse si transitava ma dopo la realizzazione del passo del san bernardino quest'area è rimasta chiusa d'inverno e quindi molte espluga di fatto in quel periodo è isolata è un bel paesino ti invito a venirci adesso c'è anche molto passaggio eh il traffico è notevole per la Svizzera dai per la Svizzera pieno di moto di turisti però ci sono degli angoli incontaminati tranquilli bellissimi la Valloga qui vicino per esempio oppure il lago artificiale dell'ex diga Enel del 1931 oggi a 2A e poi ancora prima di arrivare alla diga ci sono teggiate, stuetta, boffalora dei piccoli nuclei degli alpeggi di fatto molto molto pittoreschi qui a Montespluga poi un giretto te lo devi fare le tre vie sono proprio tre molto carine via Dogana via Ferre e via Valloga e poi c'è la chiesina eh non dimenticarti la chiesina di San Francesco piccola volta a botte realizzata anche quella dagli astriaci nel 1815 insieme alla Dogana sull'altare c'è una fara di POC del 1841 che raffigura proprio le stimmate di San Francesco è una piccola osi di pace ben tenuta, molto ben tenuta ciao amico di Facebook buon sabato da Montespluga 1908 metri o 1904 baci, baci, baci buon sabato da Montespluga Grazie a tutti. Grazie a tutti.